Non vorrei commentare e parlare delle mie caratteristiche. Allora, penso che su me c'è strano la brazzina e l'aggressività. Ma i miei lati migliori sono la velocità, la forza e l'aggressività sul campo. Non ho pensato a questo ma semplicemente portavo anche in nazionale il numero 9 per cui mi è sembrato naturale. Ma certo però che sapendo chi è stato batistuta sono cosciente del valore e dell'importanza di questo numero. E quanto questo numero significhi per tutti i tifosi per cui cercherò di esserne degno.